buongiorno a tutti spero che la maggior parte di voi che si è registrata questo webinar sia presente e introduco solo alcune notizie alcune commenti iniziali voi non potete intervenire ovviamente per quanto riguarda la voce però potete scrivere eventuali domande tramite la chat a fine dell'intervento cercherò di rispondere a tutte le domande eventualmente arrivate per cui lascerò qualche minuto per questo questo il webinar di oggi come vedete dal titolo verte sul ph questo eccezionale e rivoluzionario materiale che chiamato che sleeping giant dagli addetti ai lavori poiché le cose da dire da su questo materiale sono veramente molteplici perché contemporaneamente un materiale naturale ma è un biopolimero ed è anche un tecnopolimero perché ha delle proprietà fisiche meccaniche e neurologiche decisamente interessanti in un unico webinar è impossibile dire tutte le cose che riguardano questo materiale per cui abbiamo deciso di suddividere il piano la discussione sul ph in tre differenti webinar di cui oggi questo è il primo per cui partiremo dalle cose da alcune considerazioni generali e arriveremo fino a un certo punto sulla spiegazione dei dei vantaggi di questo materiale qua ma non finiremo non riusciremo a finire oggi per quello che vi ho detto che ci sanno dei webinar a seguire anche per quanto riguarda una parte che è importante sulle norme di gradazione sono un po complesse sono vanno viste in dettaglio anche questo farà parte appunto di un successivo webinar per cui direi di partire subito con alcune definizioni di base perché la prima parte sarà necessariamente un po generica proprio perché voglio individuare bene dove si colloca il ph nell'ambito delle bioplastiche perché bioplastica è una definizione molto confusa e questo generato nel mondo qualche problema perché bioplastica significa delle cose completamente diverse fra di loro una materia che si definisce bioplastica può fare riferimento o all'origine e allora si dice di plastica bio base oppure alla biodegradazione a fine vita per cui si fa riferimento all'origine al bio base vuol dire che l'origine si sposta dal petrolio a una coltivazione vegetale per cui la si parla di biomassa come origine invece che di petrolio per questo cosa vuol dire vuol dire che c'è una si parla di carbon neutro cioè il materiale qualora venga poi bruciato incenerito fine vita si trasforma in una biomassa che è già stato che quella utilizzata per produrre il materiale stesso significa in poche parole la cosiddetta impronta carbonio zero che durante la produzione di un materiale di un polimero tutta la co2 generata durante tale ciclo di vita e poi compensata completamente dalla quantità di co2 assorbita nella fase di crescita del vegetale di origine cioè io bisogno del vegetale che mi consumi la co2 e poi quella che a fine vita verrà di nuovo riemesso deve essere tale quale per cui qua è molto importante di come si produce quindi il polimero l'origine e il concetto di base su questo concetto di bioplastica non importa se poi il materiale sarà biodegradabile o meno conta solo l'origine e il concetto di carbon neutro per cui chiaro che se io ho bisogno di un materiale che mi utilizzi tanta acqua mi utilizzi tanta energia elettrica deve essere trasportato in più in più distanze eccetera eccetera così avrò bisogno di avere una coltivazione di co2 molto importante perché sennò il co2 non sarà più neutro per cui il concetto di base l'origine della materia prima invece le plastiche biodegradabili non c'entrano nulla con l'origine ma entra in gioco la fine vita per cui essi si chiamano eco friendly perché degradano a fine vita per cui non c'entra più niente in questo caso l'origine l'origine può essere qualunque l'origine può essere anche il petrolio il metano può essere il gas carbonio qualunque cosa può essere l'origine ma a fine vita esse devono scomparire il materiale si disintegra a fine vita per questo motivo è stato fatto un un sempre una tabella riepilogativa molto semplice ma estremamente chiara per capire i vari materiali in basso a sinistra di questa di questo grafico vi vedete le plastiche convenzionali sono fossile base cioè derivano da petrolio e poi non sono degradabili sono quelle convenzionali in alto sinistra voi vedete le plastiche che sono bio base per cui l'origine e carbonio neutro ma non sono biodegradabili in basso adesso voi vedete le plastiche che devono da petrolio ma sono biodegradabile e finalmente in alto a destra voi vedete le plastiche che sono contemporaneamente biodegradabili e bio base ma anche in questo caso possono essere parzialmente biobase parzialmente biodegradabili un'accezione che vi dirò dopo guardiamo velocemente cosa vuol dire degli esempi di polimero bio base i polimeri bio base devono possono derivare anzi devono derivare da fonte innovabile come ho detto prima possono non essere possono essere non essere biodegradabili e ce ne sono ormai di diverso tipo vediamo delle biopoliamidi del biopolitene che deve dal bioetanolo cosa vuol dire che letta non è fatto da coltivazioni idem per il bio pieti idem per il bio t più si chiamano bio perché una parte appunto è da fonte innovabile e poi ci sono tutti i derivati della cellulosa chiarendo che la cellulosa di per sé biodegradabile in tutte le condizioni mentre ad esempio l'acetato di cellulosa non lo è non lo è anche se l'origine cellulosa questi materiali possono avere percentuali molto diverse di contenuto bio base che può andare dal 10 al 100 per cento e per determinare il contenuto bio base si utilizza principalmente una norma americana che la stm 68 66 che cosa fa questa norma è un metodo standard che prende in esame il contenuto di carbonio presenti un materiale e le individualità tramite l'adattazione radiocarbonio tramite quello che si chiama il c4 il carbonio c14 che è sempre stato usato appunto per determinare l'età di un reperto o di qualcosa di antico perché si usa questo perché la differenza si fa la differenza fra carbonio antico antico vuol dire da origine fossile per cui è presente da milioni di anni petrolio gas eccetera col carbonio nuovo che serve quello dei fonti rinnovabili quello che ogni anno non si può avere per cui la norma prevede un rapporto tra carbonio nuovo e la somma del carbonio più carbonio vecchio ovviamente i polimeri tradizionali che devono tutti da patto da petrolio avranno un valore zero perché non c'è carbonio nuovo mentre i materiali biobase avranno come dicevo prima un valore che va da 10 fino al cento per cento un esempio e il ne vediamo alcuni il pieti il cosiddetto pieti a una percentuale di biobase intorno al 30 per cento non di più questa chimica una chimica antica molte nata di tanti tanti anni fa uno degli esempi più creatanti nel passato intorno agli anni 50 se ben ricordo con la scoperta che dal ricino per la pianta del ricino dei semi del ricino si poteva estrarre un olio l'olio di ricino da cui si arriva l'acido ricinoleico e quindi l'acido sebacico che è uno dei principali componenti per produrre i nylon cosiddetti bio cioè tutta la catena del nylon 10 è una catena che deriva dall'acido sebacico però il nylon 10 si chiama 6 10 10 10 10 12 4 10 ce ne tantissimi tipi a seconda della percentuale della catena del 10 che è presente ci sarà una percentuale più o meno alta di biobase quindi una catena un materiale detto 10 10 e 100 per cento biobase mentre un pia 6 10 che uno di quelli più utilizzati e intorno al 60 e una pia 4 10 intorno 70 per cento di biobase ma l'esempio più importante è quello forse del politene nel mondo esiste quello che si chiama il bio politene prodotto principalmente dalla basca ma adesso ci sono altri produttori che si stanno avvicinando dove invece di partire dal petrolio l'origine è rinnovabile per cui la canna da zucchero la canna da zucchero da origine all'etanolo dall'etanolo tramite dei processi di purificazione si arriva a quello che si chiama green etilene ma questo green etilene esattamente ha esattamente le stesse proprietà del fossile etilene cioè il bio politene il politene hanno le stesse proprietà l'origine diversa per cui entrambi non sono ovviamente bio degradabili ma sono bio base qual è il problema di questi materiali che a molti viene detto e che hanno bisogno di grandi spazi per la coltivazione nella figura a lato voi vedete che da un terreno grande come un campo di calcio si ottengono circa tre tonnellate di bio politene se voi immaginate che un impianto piccolino di politene deve produrre almeno 250 300 mila tonnellate voi capite che ci vogliono 80 mila campi di calcio 100 mila campi di calcio per fare un impiantino e 100 mila campi di calcio incomincia a essere una porzione di territorio o di terra decisamente importante per cui questo è un po un punto di debolezza c'è un c'è una necessità di molte superfici agricole forestali che vuol dire che si può rischiare l'improvimento di terreni una consumo molto elevato di acqua che potrebbe essere in teoria a scapito produzione di cibo poi non è proprio così perché in realtà si utilizzano dei terreni che sono in questo momento sarebbero non utilizzabili però c'è chi è molto contrario a questa idea ad esempio la plastic pollution coalition che certamente non è a favore delle materie plastiche afferma che se le bioplastiche le bioplastiche o meglio le bio base le plastiche bio base prendessero prendessero piede molto fortemente ci sarebbe bisogno di utilizzare un'area grande come il belgio paesi bassi e danimarca solo per poterli produrre in più ovviamente bisogna coltivare queste questi vegetali per cui c'è un incremento di petrolio per far funzionare le macchine agricole che devono produrre questi materiali però ad esempio brasilia grandissimi spazi che non sono utilizzati per cui la basket dice meno male che facciamo un po di coltivazione diamo lavoro alle persone e utilizziamo un po di terreno così come in italia nuova molto fa le coltivazioni per il mais ed è disposto a pagare meglio i coltivatori proprio per incrementare questo tipo di lavorazione e nel futuro comunque si pensa di poter utilizzare dei materiali di scarto sempre di origine vegetale che sono le bucce di banana bucce di patate scarti agricoli vari questo caso si risolverebbe anche il problema di eliminare la necessità delle superfici agricoli dedicate al cibo per cui è sicuramente materiali biobail sono sicuramente un futuro delle materie plastiche come conseguenza di questa consapevolezza ambientale si è visto nel passato necessità di avere un ente certificatore che garantisce questi numeri che garantisce che la prova della stm 68 66 venga fatta in modo puntuale uno ma soltanto uno dei più riconosciuti è il tuff austria che è riconosciuto a livello mondiale per cui sulla base delle percentuali di materie prime biobase il tuff austria certifica il prodotto come dando delle stelle come fosse la bontà di un hotel per cui da una due tre quattro stelle a seconda del contenuto di biobase trovato nel materiale per cui il massimo che si può avere dal tuff austria è una certificazione ok biobase con quattro stelle che vuol dire da 80 a 100 per cento di materiale rinnovabile non esiste l'hotel cinque stelle cioè non non è previsto di dare le cinque stelle abbandoniamo completamente questo discorso del biobase e passiamo all'altra parte di definizione di bioplastica per cui plastiche biodegradabili polimeri biodegradabili e per cui sono polimeri alternativi biodegradabili alternativi alla pasta tradizionale poi per cercare di ridurre gli ambienti negativi perché perché nessuno di noi sa esattamente quanto dura la plastica ma dopo aver fatto una certa serie di esperimenti si presuma che a seconda del tipo di plastica secondo della chimica delle molecole la plastica può durare anche fino a mille anni da 500 600 mille anni la plastica biodegradabile ovviamente deve degradare prima e questi materi si chiamano quindi aveva mental friendly e sono una delle possibili alternative alla plastica tradizionale ho detto una perché in realtà ci sono altri la tendenza nel mondo e di avere più soluzioni dal riuso di un contenitore all'utilizzo di materiali riciclati riciclati chimicamente riciclati meccanicamente e così via materiali biodegradabili sono solo una piccola parte delle soluzioni necessarie per il futuro dell'ambiente quindi come detto prima il focus e la biodegradabilità del prodotto finale per cui essi possono benissimo derivare da petrolio da carbone da gas naturali l'origine non importa e la biodegradazione è legata alla struttura chimica del polimero tutti i materiali che sapete sono degradabili alcuni sono compostabili ma pochi pochissimi materiali sono biodegradabili in ogni condizione in ogni condizione come vedremo dopo significa in ambiente controllato e non controllato come accendiamo prima ci sono dei polimeri biodegradabili che derivano da petrolio e sono molti uno dei più famosi è il pibot polibutillato di pato triptalato poi c'è il pbs pbs a che parzialmente è anche e anche bio base poi capolattone pv h così via sono biodegradabili perché la loro struttura conviene contiene gruppi chimici che sono facilmente lotti dall'azione di microorganismi poi ci sono i biodegradabili a fonte innovabile li vedremo un pochino più nel dettaglio che sono i pbs pna e ph la difesa sostanziale quindi è che una plastica 100 per cento bio base può non essere biodegradabile mentre una plastica che deve dal petrolio anche al cento per cento può essere completamente biodegradabile e questa è la confusione che si è creata perché perché bio plastica per la gente comune significa di sicuro biodegradabile ma non è così infatti dobbiamo vedere cosa vuol dire biodegradazione biodegradazione perché ovviamente tutti i materiali possono essere degradabili la degradazione a 5 diversi meccanismi degradazione a causa degli uv della luce naturale ossidazione a causa di additivi chimici degradazione termica a causa del calore degradazione meccanica a causa di sforzi meccanici degradazione idrolitica a causa dell'idrolisi ma tutti questi meccanismi portano alla frammentazione di un polimero che il polimero il pezzo diventa piccolo si frammenta ma non a quella che si chiama mineralizzazione cioè la biodegradazione composta completa di un composto organico che porta la sua totale decomposizione in composti inorganici semplici c'è una cosa è la frammentazione un'altra completamente diversa è la mineralizzazione per cui la biodegradazione significa questo è un processo chimico e naturale nel quale microrganismi presenti nell'ambiente cioè devono essere naturali convertono senza alcun additivo i materiali in sostanze naturali come acqua anestite carbonica e biomassa senza rilasciare alcuna sostanza tossica quindi devono esserci nell'ambiente dei batteri dei funghi delle alghe dei vermi che riconoscono una sostanza un solido un pezzo come un cibo e alla fine riescono a mangiarselo consumarselo e a digerirlo quindi è ovvio che dipende dai tipi di batteri che ci sono nel suolo dalle condizioni di contorno dei tante altre cose e ovviamente anche dallo spessore noi immaginate un foglio sottile un fazzoletto di carta si può decomporre in qualche settimana in qualche mese a seconda delle condizioni di contorno un pezzo spesso un palette di legno ad esempio di sequoia non difficilmente riuscirà a decomporsi neanche in tantissimi anni questa è la classica slide sulla biodegradazione per cui un microorganismo naturale che sottrazione anche di ambiente per cui temperature umidità eccetera e con le azioni enzimatiche con le soddiazioni e idrolisi prima accorce la catena e si arriva a fare delle catene colte poi degli oligomeri poi alla fine ci saranno dei microorganismi che riescono a mangiare queste questi oligomeri e a trasformarli in acqua co2 e biomassa fondamentalmente la biodegradazione significa la trasformazione in acqua co2 biomassa la scritta che vedete qui collegata di metano e solo nel caso in cui avvenga questa avvengono queste reazioni senza ossigeno in condizioni anaerobiche il grosso problema che noi vediamo in questa definizione di biodegradazione e ovviamente 1 non si parla di tempi il tempo non è contemplato per cui la biodegradazione avviene per cui alla fine il materiale diventa a vapore co2 eccetera ma potrebbe anche avvenire in mille anni e allora uno non capisce più bene cosa vuol dire biodegradazione come ho detto prima l'ambiente è estremamente importante questa è la complessità di fare le prove il materiale importante perché come accennavo la struttura chimica il fatto se il materiale ramificato o meno il suo peso molecolare quanto è polimerizzato se idrofobo se la fa ovviamente la reazione di dolisi ad esempio più lenta stereochimica eccetera eccetera la cristallità del materiale ha moltissima influenza e poi dipende dal tipo di microrganismi quali sono le dimensioni che hanno l'aggressività eccetera 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 per cui è molto complicato questo discorso la reazione fondamentale molto semplice il carbonio presenti un materiale tramite ossigeno per quello che si va di ossigeno si trasformerà in co2 più h2o più biomassa più carbonio residuo per cui cosa si fa di solito si misura la quantità di co2 emessa oppure la quantità di polimero che c'era che scoppa nel tempo ma normalmente la quantità di co2 messa e questo è quello che prevede le prevedono le legislazioni come accennavo qual è il problema sono gli ambienti uno dei grossi problemi sono gli ambienti per cui questa slide introduttiva su quello che vi ho accennato faremo successivamente gli ambienti si dividono soprattutto in due ambiente controllato e non controllato l'ambiente controllato può essere gestito tramite la legislazione perché ci sono gli impianti di trattamento dei rifiuti vuol dire i rifiuti vengono controllati possono essere rifiuti solidi possono essere rifiuti in fase fluida fase acquosa possono essere esattamente aerobici e neerobici ma sono controllati quello che tutto il mondo però sta con la battaglia di tutto il mondo contro la plastica per gli ambienti non controllati cioè l'ambiente controllato vuol dire la foresta il prato il fiume il lago il mare la plastica in questi ambienti viene buttata via e lì rimane nel webinar precedente avevo parlato ad esempio delle grandi isole di plastica che si spostano nel continente questo grosso problema questo argomento come è molto complesso per cui per quanto riguarda le norme dedicheremo un webinar a questo perché sono moltissime sono un po complesse per cui non si possono spiegare in maniera troppo superficiale da tutto questo concetto noi abbiamo individuato alcune famiglie che si chiamano bios e orios di materiali biodegradabili e questo slide è un po di epilogativa i polimi biodegradabili possono derivare come dicevo da più fonti posso derivare da sostanze agricole per cui sono anche bio base sono rinnovabili per cui si producono o i polli saccaridi o i grassi lipidi e allora l'origine può essere ad esempio la patata al mais o legno eccetera e li abbiamo chiamati bios bitle poi possono esserci l'origine delle proteine ad esempio dalla caseina dal latte si stanno producendo dei nuovi tipi di polimeri dal latte dagli scalti del latte oppure abbiamo i biodegradabili che devono dei microrganismi di cui parleremo più a fondo oggi che appunto il ph e abbiamo chiamati bios v5 v6 poi ci sono i biodegradabili che derivano da una sintesi convenzionale che produce prima i polilatidi quindi l'acido polilattico e di conseguenza poi il pla e infine dei polimeri che derivano invece da petrolio quelli che ho detto prima tipo poi il capolattone pibat pbs e le poliseramidi che sono delle poliamidi particolari e queste abbiamo chiamate odios per dire per cui fondamentalmente le tre famiglie principali che sono contemporaneamente bio base e biodegradabili per cui togliamo per il momento alla famiglia odios sono quelle che derivano ad esempio dalla ristrutturazione dell'amido per cui l'amido all'origine tipo il mater b i pulbiolis oppure quel che devono da pla tipo lingeo della natural walks e quelli che derivano dal ph ed è oggi non li guarderemo tutti questi polimeri che sarebbe interessante ma non c'è il tempo oggi ci dedichiamo al ph quello che noi abbiamo definito il gigante dormiente perché ci dedichiamo al ph perché il ph ha delle proprietà uniche fra tutti gli altri materiali tanto è vero che l'associazione che si chiama cambridge consultant fa una domanda retorica si dice ma si chiede ma cos'è il ph questo ph vuol dire poli idrossi al canoato cos'è sto ph è proprio la plastica che voleva la natura e questa è la risposta ovviamente nel suo studio la risposta è positiva la risposta sostenibile secondo cambridge consultant è solo una il ph per la natura perché perché il ph è fondamentalmente una cosa strana è un po libero ma naturale sono perché sono dei materiali bio benigni che sono comparsi milioni di anni fa in natura perché sono dentro dei microrganismi microrganismi che voi pensate se non vado all'atto che i microrganismi costituiscono il 90 per cento delle specie animali presenti sulla natura sono stati scoperti ufficialmente prima volta nel 1925 da un francese le moglie che studi che vide che in particolare condizioni nutrimento all'interno di una cellula di un batterio detto bacillus megaterium esisteva un materiale particolare che chiamò ph si trovano anche nel corpo umano di ph direttamente i metaboliti ma normalmente i ph che si trovano in natura dei pesi molecolari molto bassi per cui non possono essere utilizzati in maniera industriale per questo motivo sono stati studiati ormai da alcuni anni dei metodi di fermentazione atti a mantenere le loro cartesche naturali ma aumentando nel peso molecolare per esser renderli induzionalizzabili e questo apre ho iniziato così perché questa è una parentesi molto importante su quello che sarà al futuro voi sapete che la normativa prevista dalla ec per le plastiche monouso che vedremo poi un attimo quali sono prevede che dal mille dal 2021 per cui dal primo gennaio 2021 non si potrà più utilizzare la plastica per produrre materiali e prodotti monouso cioè single use s up non potrà più essere prodotto in plastica ma per la comunità europea per plastica si intende tutto cioè plastica e anche le bio plastiche che vi ho detto finora le bio plastiche sono per la comunità europea qualunque se siano plastiche per cui qualunque cosa che sia plastica non potrà essere utilizzata per produrre il monouso per produrre un articolo monouso nel 2021 2021 è la data iniziale di questo poi ogni singolo paese ogni singola nazione avrà diritto di recepire questa direttiva e per cui ci saranno i paesi più virtuosi i paesi meno virtuosi ma di sicuro entro pochi anni non si potranno più produrre articoli meno uso in plastica o bioplastica gli articoli meno monouso potranno essere prodotti esclusivamente e solo tramite polimeri naturali che non siano stati chimicamente modificati per cui ripeto polimeri naturali che non siano stati chimicamente modificati e non sono molti questi polimeri naturali per cui se noi prendiamo questi dieci articoli che sono quelli che sono stati trovati in maggior percentuale sulle spiagge europee e che rappresentano il 50 per cento di quello che si chiama marine litter per cui bottiglie di acqua contenitore di cibo filtri di sigarette i palloni dei bambini cannucce coperchi posaterie varie sacchetti di plastica cotton flock applicazioni sanitarie eccetera eccetera tutti questi oggetti non potranno più essere fatti in plastica o bioplastica è inutile pensare che si possa fare una frase un articolo un sacchetto in una plastica che contenga del poliestere come può essere mater b o che o che sia un pla che un processo chimico saranno vietati tutti perché sottolineo questo perché non c'è una soluzione in questo momento noi facciamo parte dell'associazione che si chiama go ph c'è vai avanti ph perché perché il ph secondo noi secondo il paio di oltre 100 scienziati nel mondo non è plastica un polimero naturale è un polimero naturale creato dalla natura che l'uomo soltanto cerca di produrre in maniera più importante ai volumi importanti ma senza modificare chimicamente la struttura del materiale per cui il ph è un polimero naturale e questo è molto importante riteniamo che sia importantissimo per il futuro come vi dicevo esso deriva dei batteri tra dei microrganismi e ce ne sono stati studiati ormai 150 ogni microrganismo e ghiotto di qualcosa c'è chi mangia di più i zuccheri la melassa che mangia di più degli oli vegetali oli vegetali tanti sono stati studiati quando questi batteri questi microrganismi mangiano come noi diventano grassi e quello che vedete nelle fotografie quel bianco che vedete il grasso interno è il grasso interno del batterio è una macro come molecola che serve i batteri come una fonte carboniosa di riserva quando sono diventati veramente bellicici viene cambiata la composizione dei nutrienti per indurre il microrganismo a sintetizzare accumulare questo grasso perché questo grasso che voi vedete è il famoso ph e la cosa incredibile è che questi microrganismi producono da soli senza intervento della chimica un materiale che chimicamente parlando è estremamente simile a quello ad esempio delle bottiglie dell'acqua minerale è un poliestere questi microrganismi si fanno da soli il poliestere per cui non sarà il pietì ma fa parte della famiglia dei poliestere e voi vedete quel tutta la famiglia di poliestere voi vedete che possa essere rifatici aromatici vedete che ci sono dei poliestere sintetici non rinnovabili tipo il pietì o parzialmente bio base come vi ho detto prima al bio pietì ci può essere il pla che sintetico ma rinnovabile e poi tutta la famiglia di ph vedete la famiglia verde per cui vedete che questa famiglia poi si divide in tanti rami che adesso vi spiego questi rami dipendono dal tipo di microrganismo utilizzato e dalla lavorazione per cui come si produce il ph non si produce tramite un impianto chimico per questo che non è modificato chimicamente come diceva non esiste impianto chimico esistono dei fermentatori dove si fa termine possono al colletto lievitare questo ammasso di microrganismi e tutto questo avviene in condizioni di lavorazione molto semplice a bassissimo impianto ambientale perché non c'è bisogno di temperatura avviene tutto più o meno temperatura normale non c'è bisogno di grandi processi chimici anzi non ci sono processi chimici in questa parte sono i batteri che si moltiplicano in maniera veloce e questo è il problema bisogna farli molti più da fare moltiplicare il problema velocemente e devono mangiare tanto ma è un prodotto è una lavorazione naturale per cui a bassissimo impianto ambientale per cui non è solo il materiale per sé che è buono che benigno ma anche tutta la lavorazione del materiale come dicevo prima i batteri possono essere tantissimi a seconda del tipo di microrganismo si produrano di ph più colti a 15 attimi di carbonio adesso vi faccio vedere oppure medi oppure lunghi a catena lunga ognuno di questi materiali da origine dei materiali diversi è molto complicato produrre poi un ph diverso ovviamente perché non entriamo nella chimica mentre amo nella biologia dovete sempre pensare che questi microrganismi devono moltiplicarsi crescere devono cresce in maniera industriale cioè dobbiamo farne tanti perché sennò se ci impieghiamo dice un anno produrre un po un chilo di materiale è ovvio che non saranno mai industrializzati per cui gli scienziati cercano di accelerare la biologia di questi materiali tramite delle infiltrazioni diversi ceppi batterici producendo degli intermedi che accennano le varie reazioni questa parte estremamente complessa per cui e non credo che interessa a nessuno quello che può interessare e capire perché io a volte parlo di ph parlo di ph bp hb h come vi ho detto e questa è una cosa che si deve sapere tutti questi prodotti si chiamano ph la differenza sta in due cose uno nel gruppo radicalico è quello che vedete scritto con r e l'altro e nel numero di gruppi metilenici che sono presenti nella formula per cui la formula dei ph è sempre questa a seconda del radicale del numero di ch 2 cambieranno i nomi per cui ad esempio si chiamerà ph 3b ph vivi ph ph a seconda di questo ma vi ho messo alcuni degli esempi il più semplice che molti conoscono è il ph b dove è stato messo semplicemente un metile come gruppo radicalico ma possono essere tantissimi vi ho detto prima che sono 150 sono stati studiati almeno 150 diversi tipi di microrganismi per cui ph cosa vuol dire vuol dire un po come il nylon cioè tutti voi conoscete le poliamidi come famiglia poliamidi uguale ph ma poi all'interno del poliamidi ci sono 40 poliamidi diverse per cui nylon 6 nel 66 12 10 12 6 10 eccetera 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 e così il ph si chiama ci sarà ph bp h bp hh bp hb eccetera 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 su questa base del ph noi da anni ci siamo concentrati a studiarlo ea renderlo industriale perché il ph i vari ph da soli sono difficilmente utilizzabili per cui noi cosa facciamo qual è il nostro lavoro e di rendere un prodotto industriale e abbiamo registrato un marchio mondiale che si chiama i am nature il nostro logo voi vedete è un fiore stilizzato con una molecola perché nella nostra idea questa è la chimica buona cioè chimica di compounding non del materiale per cui solo compound azione e natura insieme proprio perché il ph è un polimero naturale come viene fatto i am nature è fatto molto semplicemente considerando di utilizzare come materia prima un ph come ho detto possa essere più di uno per cui noi generale utilizziamo più di uno e poi a questo ph o lavoriamo tal quale oppure aggiungiamo degli altri prodotti biodegradabili poi possiamo aggiungerci dei filler di origine minerale possiamo aggiungere delle fibre vegetali o meno classificanti additivi tutta una serie di additivi che ad esempio vengono utilizzati nella cosmetica femminile perché sono delle cere cere per la bellezza del corpo che noi usiamo invece come additivi per fare questo materiale in questo modo si possono ottenere dei materiali sempre a base di ph che possono essere più o meno flessibili più o meno rigidi come vedremo successivamente per cui questa è la slide che mi fa vedere in poche parole quello che vi ho detto fra le fibre vegetali noi usiamo soprattutto lino e kena ma poi se c'è anche l'aiuto la canapa e così via abbiamo usato delle cariche vegetali particolarissime come le bucce di arancia come il mare come mais come residui di caffè si può usare un po di tutto fra le cariche ci siamo portati avanti perché vi ha detto ma perché usiamo ad esempio del talco del carburato o del lavoro a tonite eccetera ma esempio noi abbiamo pensato il carburato di calcio deriva da cava se noi consumiamo materiale che deriva da cava comunque stiamo utilizzando una risorsa del pianeta allora anche queste cose sarebbero meglio che fossero rinnovabili così come le fibre vegetali e allora abbiamo ad esempio trovato che si può fare si può ottenere del carburato di calcio la fonte innovabile quali dalle ostriche le gucci di ostrica per cui facciamo venire dalla bretagna sono vostri che francelli facciamo venire dalla bretagna del carbonato di calcio che deriva proprio da ostrica e così via eccetera eccetera alla fine otteniamo questo materiale i am nature che ha tantissime prestazioni oggi ne vediamo solo alcune come dicevo all'inizio questo materiale biobase biodegradabile eccetera 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 e poi a tutti e poi anche un tecnopoli perché anche delle ottime prestazioni le vedremo in parte oggi in parte il prossimo webinar a cui mette però nel prossimo webinar vi dirò anche i limiti di questo materiale perché come tutte le cose non ci sono solo vantaggi come accennavo prima al vantaggio numero uno secondo me del di am nature e che un polimono naturale a tutti gli effetti per la comunità europea quello che vi ho accennato prima tutti i materiali che ho detto più accennato prima i biobase per cui l'acido lattico che produce pl a l'acido sebaceo che produce le poliamidi l'acido su cinico da cui deriva il pbs o il butaniolo da cui derivano i poliesteri non sono polime naturali perché c'è di mezzo la chimica per cui tutti questi biobase sono sicuramente esclusi dalla possibilità di produzione di articoli monouso ma uno pensa allora posso usare ad esempio la lignina lami della cellulosa solo se sono in forma naturale per cui se io l'amido lo devo lavorare in maniera chimica devo aggiungere qualcosa per renderlo lavorabile non è più un prodotto naturale così la cellulosa la cellulosa è un prodotto naturale di per sé ma non lo è quando è lavorato se diventa ad esempio l'acetato cellulosa idem la lignina per cui neanche questi materiali potranno essere utilizzati da una cellulosa trattata chimicamente non potrà essere utilizzata cos'è che si può utilizzare allora si potranno utilizzare dei polime naturali che possono arrivare da biosintesi di funghi tipo dei polisaccaridi tipo la chitina chitosano esempio le piume di una gallina possono diventare una buona fonte per fare questi materiali se le piume non saranno trattate chimicamente ed è una cosa che si sta lavorando oppure devono essere polime naturali tramite biosintesi dei batteri tipo gli agginati in destrano e come vedete anche i poli idrossi al canoati per cui la nostra idea è che nella definizione di plastica della comunità europea sia importante sottolineare il fatto che che il ph è naturale vi anticipo che noi non sappiamo ancora se la comunità europea accetterà o meno questa definizione è supervole posso dire che questo sarà una decisione estremamente importante per il futuro del ph perché uno dei problemi del ph che non ce n'è molto nel mondo non è disponibile facilmente posso dire solo un dato vado memoria la produzione di materie plastiche nel mondo e di circa 360 milioni di tonnellate 360 milioni di tonnellate di materiali bio base per cui bioplastiche in senso ampio bio biodegradabile eccetera si parla di otto migliori tonnellate se mi ricordo bene di pic di ph non parliamo di migliori tonnellate parliamo di 30 40 mila tonnellate attualmente disponibili nel mondo e sono già stato un po ottimista per cui parliamo di una piccola produzione è chiaro che però nel mondo si stanno studiando in questo momento molti impianti di ph di diversi tipi di ph perché potenzialmente come accennavo prima è un gigante dormiente è un materiale che delle potenzialità infinite è chiaro che se la comunità europea accettasse la definizione del ph come polimero naturale abbiamo grossi problemi forse di produzione ma sarebbe un bel problema oltre essere naturale andiamo avanti col discorso che è biobase e ovviamente che biobase lo fanno fanno i microrganismi per cui può arrivare tranquillamente al cento per cento e per questo che molti nostri prodotti hanno la certificazione del tuff a quattro stelle questo è uno dei tanti materiali che abbiamo ma uno dei vantaggi essenziali del ph è che biodegradabile in tutte le condizioni vi ho accennato prima che andremo fare una webinar dedicato a questo ma questo fatto importante e biodegradabile sempre questo è il concetto di biodegradazione che ho accennato all'inizio questo è il fatto che è un prodotto naturale per cui per forza che lega dentro le condizioni l'ha fatto la natura e la natura se lo riprende ed è l'unico materiale che degrada in tutte le condizioni cioè controllate e non controllate per cui degrada in tempi ragionevoli al suolo in una foresta sottoterra al buio nei fiumi nei laghi nei torrenti fondo al mare superficie degrada in tempi ragionevoli ripeto in ogni condizione e sottolineo ancora una volta tempi ragionevoli perché questo è il vero problema del concetto di biodegradazione se un materiale biodegradazione perché ci impiega mille anni a biodegradare che capo di materiale biodegradabile non è vero che biodegradabile secondo me anche se si può scrivere che biodegradabile io su questo sono abbastanza rigida per cui voi vedete in quella slide che vi ho accennato prima in tutte queste condizioni il materiale si biodegrada per cui potete essere sicuri di questo ovviamente i tempi cambiano a seconda dell'ambiente a seconda delle condizioni e anche soprattutto secondo dello spessore lo spessore giocava un ruolo importante ma quasi tutti quando parlo di degradazione parlo di film di 10 micro 20 micro 100 micro noi che operiamo nel settore tecnico noi parliamo di millimetri il ph è in grado di degradare in ogni condizione a 2 mm di spessore anche di più ma in due mesi di spessore vuol dire degradare in tempi veramente ridotti molto ridotti ci parla di mesi non di anni vi farò vedere poi qualche dato è una cosa interessante che noi possiamo fare che possiamo modificare la disintegrazione per cui ci sono delle della disintegrazione noi la modifichiamo secondo di come facciamo la formula per cui se vogliamo farlo disintegrare velocemente useremo certe cose anche degli additivi per aumentare la velocità di disintegrazione se vogliamo produrre un bene durevole o semi durevole rallenteremo la disintegrazione la disintegrazione noi la proviamo in laboratorio tramite una norma che si chiama iso 20 200 che è una norma abbastanza semplice e possiamo così vedere come si come si comporta il materiale e noi produciamo delle piastrine a spessori diversi 123 mm di spessore e li vediamo come si degrada al materiale vi faccio vedere con la degradazione eccola qua scusate eccolo qua esempio questo è un grado poi vedete le placchette che vengono attaccate prima dei microrganismi poi ci saranno tutta un'azione di ossidazione di idrolisi eccetera e man mano il materiale si consuma poi vedete quella placchetta iniziale dopo 30 giorni è già praticamente disintegrata per cui stiamo parlando di mesi non stiamo parlando di anni questo è una prova fatta dal nostro amato cliente che aveva fatto la posto dei tappi questi tappi sono stati messi dentro la cultura e questi tappi dopo pochi giorni diciamo dopo 60 giorni circa sono scomparsi sono stati disintegrati poi la norma prevede di far la prova fino a tre mesi e di conseguenza è terminata e la degradazione il 100 per cento quando la norma come spiegherò poi successivamente prevede un valore del soltanto del 90 per cento finisco con una cosa che è importante secondo me perché il materiale si comporta un po come il legno perché dico questo perché legno è considerato un materiale naturale e materiale ci impiega un po di anni a marcire degradarsi dipende anche lì dallo spessore ma il comportamento più o meno simile ma c'è una forte differenza a vantaggio del ph questo dico perché noi possiamo produrre anche dei beni durevoli bene semi durevoli se voi pensate alle navi romane trovate in fondo al mare vi rendete conto che il legno ad esempio in mare non degrada le ma le navi ci sono ancora adesso sono passati duemila anni quando vi dicevo che la plastica duemila anni non lo sappiamo forse durerà anche duemila perché legno 2 a 2 mila anni anche gli egizi sapevano che legno non degradava in mare e perché non degrada in mare perché legno è composto da cellulosa e lignina la cellulosa e degradabile sempre la lignina no perché la lignina ha bisogno di funghi per degradare e i funghi in acqua non ci sono per cui se anche uno pensa di produrre torno al discorso del l'articolo monouso pensa di produrre un cucchiaino in legno in realtà questo cucchiaino in legno non è degradabile il mare non è degradabile in acqua chiaro che non va buttato in ogni caso ma non lo è degradabile per cui possiamo dire che iam nece paragonabile al legno per alcune prestazioni ma invece dobbiamo dire ed è più corretto che invece paragonabile la cellulosa per la sua degradabilità in acqua la cellulosa degrada in acqua la cellulosa dei materiali esattamente come il ph che in grado di degradare in ogni condizione per cui si può fare un cucchiaio quello che si vuole in cellulosa ma si può fare anche in iam nece cosa significa significa che il ph è un prodotto naturale ma può utilizzare tutte le tecnologie delle materie classiche come vedremo successivamente cioè non è una plastica ma si trasforma come una plastica non è un termoplastico ma si trasforma come un termoplastico come ho detto termino qua perché tempo è già passato nel prossimo e bilan andremo molto più nel dettaglio sulle caratteristiche tecniche del ph con come accennavo con i vantaggi e gli svantaggi a chi mi una domanda che ho ricevuto è se il ph è riciclabile il ph è riciclabile bisogna vedere se questa è la sua funzione principale sicuramente è sicuramente riciclabile stiamo facendo adesso delle valutazioni di quanto bisogna metterne ma è riciclabile un'altra domanda che mi viene fatto è che si mettono degli additivi mi chiedono non vanno a modificare la temperatura del materiale facendolo quindi ricadere nella casa di materiali banditi certo potrebbe essere quindi è importante che gli additivi che vengono messi nel materiale siano additivi di tipo naturale o comunque accettati dalla comunità della comunità europea non possiamo mettere tutto quello che vogliamo e qui dipende appunto dall'applicazione ripeto ripeto una cosa si parla sempre di applicazione la normativa si riferisce al si al monouso per altre cose questo non è interessante un'altra domanda mi parla di tempi ragionevoli io ho un altro slide che vediamo se riesco a proiettare si vado avanti vi chiede di cos'è tempi ragionevoli faceva parte della eccola qua di una prossima possiamo avere ma comunque vi do delle idee un film vi dico solo un film di pl a è che è considerato questo dice quanto ci impiega nell'acqua da nell'acqua in marina il pl a non degrada per niente zero la libera che da zero non è come politene polipopilene se buttate un film non un pezzo stampato di un prato il pl ci impiega 36 anni non è un tempo ragionevole 36 anni come fa dire che il pl a un materiale biodegradabile se ci impiega un film a 36 anni voi pensate a una forchetta una carta che perdete ci impiega 36 anni a degradare che senso ha il phb ci impiega due mesi tre mesi quattro mesi questo tempo ragionevole qualche mese un anno due anni tre anni dipende dagli spessori sarà un tempo ragionevole ma non anni questo chi mi chiede addettiva europea include anche le pratiche compostabili assolutamente non vuol dire la pratica compostabile non voglio dire che è una presa in giro perché non è vero ma è fatta è nata per il cibo è nata per il cibo per cui la pratica compostabile serve quando abbinata al cibo per cui se io un piatti un piatto una forchetta quella va bene perché deve essere compostabile ma poi non posso comunque usarla perché compostabile vuol dirlo vedremo compostaggio industriale a 60 gradi il pl è compostabile industrialmente ma solo industrialmente ma è deriva da sintesi chimica il pl a un prodotto chimico per cui per la comunità europea non si può usare non importa che sia compostabile o meno non si può usare e chimica allora non il fatto che un materiale si è definito compostabile non c'entra nulla con la definizione della comunità europea un sup biobase non è accettato chi mi chiede questo un plastica monouso non viene accettata se biobase ripeto per essere chiaro verranno accettate solo le plastiche non le plastiche plastica non viene accettata i polimeri naturali per cui pensate alle piume delle galline alla pelle ai nostri capelli al ph forse alla cellulosa queste sono i materiali che verranno accettati per il monouso nessun altro le slide verranno le se tutte disponibili di ne sai dire oggi le proiettate una settantina credo ne abbiamo 200 per cui questa parte verrà separata dal resto e verrà resa disponibile immediatamente la seconda parte del webinar andrà proprio nel dettaglio delle biodegradazioni e anche di alcuni parametri vi ringrazio tutti per l'attenzione spero che sia stato interessante spero di rivedervi tutti la prossima volta quando continueremo questo viaggio verso il ph che è un polimono veramente fantastico saluti a tutti grazie